Da tempo, John Cena usa i suoi social in maniera molto particolare. Su Instagram, ad esempio, è solito trollare i fan con foto che spesso sembrano anticipare eventi o circostanze che poi puntualmente non si verificano, cavalcando le più disparate dicerie di internet. Quindi c'è in giro una voce, John Cena mette una foto, tutti lì a dire uh 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 uh, e poi non succede niente. Su Twitter, invece, l'ex wrestler pubblica da diverso tempo delle frasi motivazionali che ad aprile 2021 saranno il punto di partenza per ben due libri a sua firma che invaderanno il mercato editoriale. Uno di questi avrà come target i bambini tra gli 8 e i 12 anni, mentre il secondo sarà a beneficio di tutta l'utenza senza distinzioni di età. Siete pronti dunque ad abbeverarvi alla fonte della saggezza di John Cena? Beh, vedremo, anche perché probabilmente usciranno soltanto in inglese. Però come sad news vi ricordo anche che John ha in cantiere diversi film e anche la partecipazione in almeno un paio di serie tv è richiestissimo. Di conseguenza, anticipando una domanda che mi fate spesso, quando torna? Beh, un suo teorico rientro nel ring. Anche come part-timer, a fronte di tutto questo, risulta sempre più complicato e difficile da prevedere. Semmai ci sarà, visto che anche questo deve essere messo in discussione. Grazie. Grazie.